Se ti manca è quello giusto e a noi è mancato tanto, parola mia e di tutti i telespettatori che seguono questo spazio su Padre Pio TV ormai da anni. E Padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche, ben ritrovato Padre Ernesto. Grazie Anna Maria, io metterei il femminile invece del maschile, ci è mancata la trasmissione conversazioni bibliche, perché ricordiamo ai nostri amici, la protagonista è sempre la parola, le mie sono povere chiacchiere per spezzare quella parola che porta a me, come insegna Paolo nel suo famoso testamento, Atti 20. Comunque sono contentissimo perché molta gente ci ha contattato per sapere quando questa trasmissione aveva inizio, anzi ci hanno detto di lavorare anche ad agosto, quindi è stato molto bello questo invito. Benvenuto anche a te, un bentornato a vita ai nostri registri e registi, quindi grazie ancora una volta a te e Padre Pio di questa accoglienza. Sai cos'è? Si presume che con la parola di Dio insomma non ci sia stata la distanza o l'assenza, non si sia sentita l'assenza, perché comunque anche d'estate siamo abituati a frequentare la chiesa, a sentire e ad ascoltare la parola di Dio ogni domenica, quindi insomma ci sei mancato tu in modo particolare per quanto ci riguarda. Sì, in questo la gente ha ragione, ha bisogno di chi spezzi questa parola, ma d'altra parte Gesù ha voluto gli apostoli per questo motivo. Il primo dono dato a tutti i sacerdoti è il munus docenti, sono degli insegnanti, devono spezzare la parola, quindi essere voce come è stato Giovanni che annuncia la parola. Questa è un'immagine davvero molto bella. Poi oggi iniziamo subito con una parabola di quelle più famose che abbiamo nel Vangelo di Luca. Ci aiuta proprio oggi la liturgia a prendere consapevolezza che ogni nostra azione, ogni scelta che facciamo nella storia incide poi nel nostro futuro. A te. Sì, è vero, perché la parabola che noi comunemente chiamiamo di Lazzaro e del ricco Epulone, ma dove Epulone significa realmente banchetto, non è il nome di questo ricco, perché Luca ha l'abitudine a chi ha una ricchezza così esagerata di non dare proprio il nome. C'è da una parte chi vive nel lusso, nell'abbondanza, nei piaceri, e invece a brevi distanze c'è il povero, alla sua porta Lazzaro, debole, malato, addirittura incapace di scacciare anche i cani che gli leccano le piaghe. Luca racconta questa parabola alla fine del capitolo 16, dove all'inizio ha parlato dell'amministratore che però, pur essendo infedele, è un uomo intelligente. Cosa vuole dirci Luca? Che il denaro può diventare un idolo, anzi può esercitare una signoria che va riservata soltanto al signore. Questo ricco senza nome, invece, non usa le ricchezze per farsi amici i poveri, come ha fatto l'amministratore all'inizio del capitolo 16. Per cui poteva benissimo farsi amico Lazzaro, invece dopo la morte sperimenta che non c'ha più possibilità di mutare quello che su questa terra tutti abbiamo il dovere di fare. C'è una sorta di paragone che Luca fa tra questo ricco e l'amministratore astuto. Quest'ultimo arriva al paradosso della spregiudicatezza. Pur di assicurarsi un futuro, quest'uomo gioca sui debiti dei debitori del padrone e si fa un futuro. Invece questo ricco è chiuso, come una torre d'avorio, si concentra sulla propria ricchezza e non capisce che il suo oggi ha una breve durata. Per cui davvero non c'è più spazio di manovra per questo ricco. Ormai è troppo tardi. Ecco perché Luca ce lo fa vedere con due momenti molto forti. Uno in cui inquadra questo ricco vestito di indumenti di lana, tinti con la porpora di tiro, che era poi il colore associato alla dignità regale, e vestito di bisso, che è una tela di lino di Battista finissimo. Era un tessuto egiziano molto fine, molto costoso. Quindi il primo tratto è come veste quest'uomo. È un uomo che ama il lusso e poi è un uomo che festeggia ogni giorno in modo sprendido. Quest'uomo ama godere anche a tavola. Qual è la sua colpa? È quella di godere sprenzieratamente la ricchezza. Forse qui Luca, ironicamente, vuole indicare quelli che erano i ricchi della sua epoca, la classe sacerdotale dei Sadducei, partito aristocratico sacerdotale del giudeismo. Era la casta più ricca di Gerusalemme. Tra l'altro questo ricco senza nome usa le ricchezze solo per sé. Signora questo povero Lazzaro, Lazzaro significa Eleazzaro, Dio aiuta, El Ezer, nemmeno le molliche gli vengono date. A quell'epoca si mangiava con le mani, quando dopo aver mangiato dei pezzi di carne si affondavano le dita nelle pagnotte di pane perché le molliche servissero una sorta di tovagliolo. è un quadro desolante da una parte di una miseria estrema e dall'altra parte un lusso sfrenato e colpisce che sono così vicini il ricco e il povero, ma non c'è proprio rapporto. Il ricco non ha nessun rapporto, ignora completamente la povertà del proprio Lazzaro. Tra l'altro questa è una scena abbastanza usuale per quell'epoca. I ricchi vivevano così e i poveri stavano alla loro porta. Quando però cambia la situazione, alla loro morte, c'è una sorta di inversione. Lazzaro viene accolto nel seno di Abramo, il ricco è nei tormenti degli inferi, il famoso Ade, il luogo del tormento, dove si sopporta un'arsura incredibile. È bellissimo questo quadro. Allora il ricco si rivolge ad Abramo. Solo ora si ricorda del padre Abramo e gli chiede ancora una volta, comanda, di a Lazzaro che porti a me, intinga il dito e mi porti un po' d'acqua. È strano che quest'uomo se ne ricordi solo ora di Abramo e continui a comandare. Non perde l'abitudine a disporre degli altri. Come mai si è accorto solo ora? di Abramo. E Abramo gli risponde, figlio, usando un termine in greco, tecnon, prodotto del parto, figlio, tu hai fatto un errore. Hai cercato sulla terra stabilità nella ricchezza, nei beni, e ora la situazione è rovesciata. Il nostro Dio è un Dio che rovesce i potenti dei troni e innalza gli umili. Quest'uomo se ne è dimenticato. Perché lui non condanna, Abramo non condanna la ricchezza in sé. Dio non condanna la ricchezza in sé, condanna l'uso egoistico, cioè non metterla a disposizione degli amici di Dio, cioè dei poveri. È decisivo il modo in cui si vive. Quella ricchezza non è segno della benevolenza divina, come a quell'epoca si riteneva, ma può essere davvero un idolo pericoloso. Ecco perché Abramo dice, guarda, fra noi e voi, tra l'altro, c'è un abisso, quindi non è possibile avere un rapporto con voi. Ormai è decisivo come tu hai accolto e hai amministrato la vita ricevuta in donna. Ecco quello che dicevi tu. È decisivo. E nella seconda parte della parabola, ancora una volta, è di scena questo ricco che si preoccupa dei propri fratelli. Evidentemente continuano a vivere come lui senza sospettare poi la sorte e vivono affogati nella loro ricchezza. Sì, perché la ricchezza può fare affogare. Il ricco, eclatatamente, non va contro Dio, non va contro il povero, ma fa un peccato più grave, non se ne accorge nemmeno, non li vede. È una cecità spirituale su cui Luca tornerà tante volte, come succederà per Zaccheo. È per questo che il ricco, ancora una volta, comanda di dire a Lazzaro almeno che avvisasse i cinque fratelli. Non porta mai, non perde proprio il vizio di portare sempre a sé. Potremmo definirlo un egoista incallito. E Abramo gli dice, guarda, non è possibile, ma possono consultare Mosè, la legge e i profeti. Le voci non mancano. Manca la libertà per comprendere e insieme la lucidità per vedere. Ecco perché in questa esistenza il Signore ci offre un'opportunità. Abbiamo la legge, i profeti, c'è la scrittura, c'è questa parola che ogni domenica viene data innanzitutto a me e poi a tutti quanti noi. Bisogna accoglierla e portarla a compimento. Ecco perché il ricco ha fatto un grande errore. Non ha capito l'urgenza della conversione e poi ha dimenticato la vita futura. Noi siamo qui, ma non lo siamo per sempre. Prima o poi dovremo comparire davanti al giudice e dobbiamo evitare, come lui, di trascurare il povero che era alla sua porta. Chi ignora il povero oggi, misconosce Dio stesso. Ecco la lezione teologica che oggi il Vangelo di Luca ci offre. In effetti è proprio questo il rischio che corriamo, di non vedere le sofferenze degli altri, cioè che avvenga tutto senza comunione, senza riconoscimento delle necessità del prossimo. Dobbiamo metterci in discussione, padre Ernesto. Anche perché noi abbiamo un proverbio, cara Anna Maria, soprattutto noi del Sud, che il Dazio non crede a chi ha digiuno. Il che vuol dire che quando una persona affoga nelle proprie ricchezze, nelle proprie sicurezze e non vede la sofferenza del fratello, in ogni caso manca di identità. Ecco perché Luca dice che il ricco non ha un nome. La ricchezza esagerata toglie la nostra identità, la cancella. Il nostro io non esiste più se non siamo davanti a Dio e davanti al povero. Quindi oggi non è solo una questione di solidarietà, di divisione con gli altri, non è un comunismo antelitteram, ma piuttosto è una condivisione teologica, perché il pensiero di Dio è esattamente questo, stare vicino alla vedova, all'orfano, al povero, al malato, al peccatore. Se lo stile di Dio è questo, noi dobbiamo fare nostro. Questo stile e non la logica del mondo. È vero. Sottolinea appunto il fatto che Dio non punisce i nostri peccati, non ci colpisce perché abbiamo sbagliato, ma sono le nostre scelte che impediscono proprio all'azione divina di esprimersi in noi e di fiorire. Noi ci chiudiamo a quella luce meravigliosa che vuole mettere sotto i riflettori per curarci, come direbbe Giovanni, il Signore, il Padre, pota perché la pianta porti più frutto. C'è il Salmo che oggi noi celebriamo, che è molto bello, il Salmo 145, che dice così «Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, colui che ripone la speranza nel Signore e il suo Dio». È un'esortazione a dire «spera in Dio, non mettere il tuo cuore nei beni del mondo». La ricchezza passa, molto meglio la fraternità, la condivisione, lo stile di Dio. Si tratta proprio di cambiare mentalità e questo è davvero difficile se non accogliamo la luce della grazia. Bene, Padre Ernesto, siamo partiti con il piede giusto, con la parabola giusta e nel giorno giusto. Io ringrazio te, ringrazio Vito il regista, ringrazio soprattutto tutte le amiche e gli amici che ci seguono. Pregate per noi, continuate a chiedere al Signore che ci illumini, perché questo piccolo spazio sia come un'arca dell'alleanza. Noi vogliamo custodire nel nostro cuore questa parola, perché come diceva San Francesco, ve lo ripeto sempre, verbum in corde corat deum, ma quando la parola è nel nostro cuore, il nostro cuore sali a Dio. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a te, Padre Ernesto. Shalom. Shalom.